Con Francesca Piantanida, conduttrice di Sky, volto del golf su Sky Sport, ad una settimana dalla Ryder Cup, qual è l'emozione? Immagino il countdown è stato lungo, adesso ci siamo, qual è l'emozione di commentare l'evento principale? Allora, l'emozione è grandissima perché di Ryder Cup ne ho raccontate tante, la prima nel 2010 in Galles, proprio sul campo, ma questa è specialissima perché è in Italia, perché ci sono delle storie meravigliose e abbiamo una squadra ricchissima, molto affiatata, di talent, di giornalisti, saremo tutti sul posto, quindi questo è un altro valore aggiunto, poter raccontare dal campo le emozioni della 44esima edizione della Ryder Cup e poi ci sarà davvero una parata di stelle perché cominceremo davvero a entrare nel vivo a partire da mercoledì con gli All-Star Matches, per cui insomma ci aspettiamo di vedere sul campo da golf Novak Djokovic, Carlos Sainz, Shevchenko, Gareth Bale, insomma tantissimi sportivi uniti dalla passione per il golf. Quanto è importante anche questo evento collaterale al fianco della Ryder Cup che è chiaramente l'evento principale del golf internazionale? Da un boost pazzesco di energia, di entusiasmo, l'attesa è altissima, 300.000 persone in una settimana nella città di Roma, ovviamente la città, la capitale attira tantissimo anche i curiosi, sarà un'occasione davvero per fare la differenza come sempre su Sky Sport. Grazie. Grazie a te.